Il porto del brazo, io guido a beccar O le rodarà di oggi, a beccar, non la piaccio In natale, i dollari, lo sopra che parla, io guido a beccar, non la bollo Cosa è la via di ricost� Med gateway e mi incontrate e non c'è il carico di Bocconi la due giorni a casa ho fatto ieri a casa della cianamoni se è scattato la rosa ho forato un bravatico la mia ciascola di Basti sono statunitamente i migliori e se è un buccato se è riportato in allegato e soccato di tutti i magliù sono statunitamente i po' comeri e non so che la ciascola 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 è tutto da un bel cassone e non ha fulmini con più in più e non c'è l'immagine i po' comeri e di suona sotto la tabbra Grazie a tutti Grazie a tutti